Ancora un lutto in Italia. Addio ad un'icona famosissima. Ciao a tutti, cari spettatori di Amica Gossip. Oggi abbiamo una notizia triste da darvi, una notizia che ha sconvolto l'universo della letteratura e i cuori di tutti i suoi appassionati. È con grande dolore che vi informiamo della prematura scomparsa di una celebre scrittrice, una regina del giallo storico, amata da tanti in tutta Italia. Prima di continuare, vi chiediamo di sostenere il nostro canale iscrivendovi e attivando tutte le notifiche tramite la campanella. Così non perderete nemmeno un aggiornamento. La notizia della scomparsa è stata diffusa in queste ore da tutti i principali giornali nazionali, dimostrando l'importanza di questa figura nell'ambito letterario. Stiamo parlando di Danila Comastri Montanari, una straordinaria scrittrice di romanzi gialli storici, la cui penna ha saputo conquistare i cuori di un vasto pubblico. La sua carriera letteraria ha preso il via nel lontano 1990, quando all'età di 40 anni ha pubblicato il suo primo romanzo, intitolato Mors Tua. Da quel momento in poi, Danila ha scritto ben 19 libri con protagonista il valoroso senatore detective romano Publio Aurelio Stazio, un personaggio che è diventato iconico nel panorama del giallo storico. Danila Comastri Montanari era una profonda conoscitrice della storia antica e moderna, e questo si rifletteva nel suo stile di scrittura, semplice, diretto e coinvolgente. Le sue descrizioni accurate e coinvolgenti facevano sì che i lettori si immergessero completamente nel periodo storico da lei narrato, vivendo avventure emozionanti attraverso le pagine dei suoi libri. Tra le sue opere più famose, citiamo In Corpore sano, Cave Canem, Nemesis e Tenebrae. Ogni opera era un viaggio indimenticabile nel passato, un regalo prezioso per tutti gli appassionati del genere. Danila Comastri Montanari ci ha lasciato a causa di un'improvvisa dipartita, a soli 74 anni. Le sue opere, però, continueranno a vivere per sempre nella storia della letteratura, e il suo contributo al genere del giallo storico resterà impareggiabile. Per rendere omaggio a questa straordinaria autrice, vi invitiamo a partecipare alle sue esequie che si terranno mercoledì 2 agosto alla Camera Mortuaria dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, dalle 10 alle 11. Danila mancherà non solo alla letteratura italiana, ma anche a tutti coloro che amano immergersi nella suspense e nell'adrenalina dei misteri storici. Prima di concludere, vorremmo sapere qual è stato il vostro libro preferito, scritto da Danila Comastri Montanari, e cosa vi ha affascinato di più in questo straordinario universo del giallo storico. Lasciate la vostra risposta nei commenti. Alla prossima puntata!